Il 4 aprile la Commissione Sanità in sede legislativa ha approvato all'unanimità il testo che disciplina i registri regionali sui rischi derivanti da specifiche patologie necessarie alla programmazione degli interventi volti a tutelare la salute pubblica. La legge, partendo dalle banche date esistenti, istituisce dei registri tali da garantire la riservatezza dei dati sensibili raccolti sulla situazione sanitaria dei pazienti piemontesi. L'operazione si è resa necessaria alla luce dell'imminente approvazione dello schema di regolamento regionale tipo per la tutela della riservatezza da parte del gruppo di lavoro interregionale sotto la supervisione del garante della privacy. Nel corso del dibattito è stato inserito un emendamento che permette l'introduzione di nuovi registri per specifiche patologie con delibera dell'esecutivo sentita la competente Commissione consigliare.